Vorrei commentare le parole del Salmo responsoriale. Oggi si prega il Salmo 18. Sapete che i salmi sono 150 e sono divisi in vari generi letterari, in vari tipi di salmi. Tra questi ci sono i cosiddetti salmi regali. Sono nove salmi, vecchi salmi per il Re, che dopo la distruzione di Gerusalemme sono stati ripresi per parlare del Messia che verrà e quindi in pratica parlano di Gesù. In realtà erano preghiere di gente comune lasciate nel Tempio di Gerusalemme, ad esempio per ringraziare per una grazia ricevuta. Venivano reinterpretate per parlare del Re, ma all'inizio parlavano di gente del popolo, del popolo di Israele. La gente più che chiedere a Dio guarigioni e miracoli quando andava al Tempio di Gerusalemme, chiedeva piuttosto giustizia e liberazione dalle ingiustizie. Dio era visto prima di tutto come il liberatore, non tanto come il creatore, certo era anche il creatore, ma la prima caratteristica di Dio è che ci libera dalle ingiustizie. Abbiamo letto oggi nella Messa i versetti iniziali e i versetti finali del Salmo 18. In mezzo però c'è un ringraziamento proprio per la liberazione dei nemici, che ve la faccio sentire perché non è stato letto nella Messa di oggi. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo Tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi recchi, giunse il mio grido, stese la mano dall'alto, mi prese, mi sollevò, mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di lui. Si tratta di preghiere di un uomo perseguitato da persone cattive che ha chiesto aiuto a Dio e Dio lo ha liberato e lui ora vuole ringraziare. Nel titolo iniziale, aggiunto successivamente, questo Salmo è stato attribuito a Davide. Dice così al maestro del coro di Davide, servo del Signore, che risvolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dal potere dei tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Davide è visto come un re che era povero, che viene dal popolo, dalla gente comune, che è stato perseguitato. Le persone che hanno messo insieme il libro dei Salmi, prendendo le raccolte di preghiere che c'erano già prima e mettendole in un certo ordine logico, queste persone che vivevano quando con Davide, perché anche loro si sentivano scartati e perseguitati e aspettavano un altro re liberatore, il Messia che sarebbe anche lui nato dalla gente del popolo. Noi sappiamo che si tratta di Gesù. Il libro dei Salmi è stato scritto da gente che si sentiva emarginata dalla società. Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Nel Salmo si usa l'immagine di un'alluvione violentissima da cui ci si è salvati arrappicandosi su una rupe. Questa rupe è Dio, Dio è la roccia, la rupe. Un'altra immagine che si usa nel Salmo è quella di una battaglia contro nemici più forti e numerosi. Per vincere la furia dei nemici ci vuole forza, per difendersi dalle loro frecce si usa lo scudo, per scampare dalla morte ci si rifugia in un baluardo, in una fortezza. Anche la forza, lo scudo e il baluardo sono immagini per indicare Dio. Dio è la forza, lo scudo e il baluardo, la fortezza. Ma il nome più importante che si dà a Dio è quello di liberatore, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Dio ha liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto, Dio continua a liberare ancora oggi gli oppressi, Dio è il liberatore. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nella Bibbia quando si usa il termine salvezza si indica prima di tutto la salvezza sociale, essere salvati dalla violenza dei prepotenti e dall'astuzia di chi si approfitta dei poveri. Nei salmi c'è anche la richiesta a Dio di essere salvati dal peccato, si pensa al Salmo 51, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro, e di essere liberati dalla morte. Si pensi al Salmo 16, non abbandonerai la mia vita negli inferi né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Ma quello che si chiede a Dio è quasi sempre di essere liberati dai malvagi, dai corrotti, dagli eroganti, dai sanguinari, dai violenti. Nella Bibbia la salvezza è salvezza sociale, giustizia sociale. Viva il Signore, benedetta la mia roccia, sia ascoltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Questi ultimi versetti sono stati aggiunti al Salmo per applicare le sue parole al re d'Israele, che deve lottare contro i nemici più potenti di lui. Ma le parole del Salmo 18 in realtà sono le parole di ogni persona debole, indifesa, emarginata, perseguitata, che grida a Dio per essere riliberata e risollevata. Ma ora chiediamoci, non abbiamo proprio niente da imparare noi cristiani del terzo millennio dalla fede di questi antichi ebrei che hanno scritto la Bibbia? Loro sentivano Dio talmente vicino, talmente interessato alla loro vita da interpellarlo per le richieste più concrete. Noi forse abbiamo un'idea di Dio troppo spirituale, abbiamo l'impressione che Dio si è interessato solamente alla salvezza della nostra anima. Se subiamo qualche ingiustizia ci sembra che questa sia una cosa che non riguarda la religione. Dio ha ben altro a cui pensare che far giustizia a me. Con Dio nelle nostre preghiere di certi argomenti non ne parliamo. Forse dovremmo riscoprire che Dio è anche il liberatore. Forse dovremmo imparare a indignarci di più di tutte le cose sbagliate che capitano ogni giorno attorno a noi. Dovremmo parlarne ogni giorno con Dio. Sono sicuro che ci nascerebbero nel cuore nuove idee e una nuova spinta per lottare contro i mali di questa società, come ogni altra società. Questa società crea i suoi schiavi, i suoi emarginati, i suoi scartati. Se imparassimo di più a pregare il Dio liberatore diventeremmo anche noi dei liberatori con Lui, al servizio di tutti.